amici e amiche bentornati a on the matters da mattia e mattia ce la facciamo siamo ancora qua siamo qua non siamo ancora andati in vacanza ci andremo presto però ci mancavate talmente tanto che abbiamo detto facciamo ancora qualche puntata no matti assolutamente sì il clima ci suggerisce un periodo natalizio noi come sempre a natale facciamo una puntata ma che roba è questa roba che come che roba è matti è quello che beviamo tutte le volte sì ma non è forse andato male è scaduto e il gin il gin non mi piace vabbè matti possiamo cambiarlo ne abbiamo allora dovete sapere che oggi è la centesima puntata di on the matters ok quindi c'è un fil rouge che ha unito tutte le puntate che è il gin cosa abbiamo pensato di fare quest'oggi cosa abbiamo pensato di fare dimmelo tu perché questo di bere finalmente un gin decente un gin buono sì ma hanno fatto una sorpresa anche oggi una sorpresa che non è solo il gin ti ho portato una persona che ha creato un gin ma veramente ma sì e allora la sorpresa di oggi è filippo sant'agostino applausi ciao a tutti ciao come stai bene voi bene grazie per essere venuto che sorpresa dell'invito che sorpresa non me l'aspettavo grazie di essere qua e allora il gin che non è quello che sto bevendo no è quello che sto bevendo io in realtà perché quello buono te lo sei preso tu esatto esatto ma concentriamoci su su filippo sull'ospite sul suo gin esatto allora io ho spoilerato il fatto che tu sia un creatore di gin sì esatto allora presentati un attimino come vuoi essere presentato nel senso racconta un attimino chi sei e che cosa hai fatto perché sei qui sono qui perché un po' di anni fa ho pensato che mi conveniva di più fare il mio gin che non continuare a comprarlo e quindi poi ho iniziato a produrlo da me e sparvi esatto fondamentalmente il motivo è quello e poi da lì è nato tutta l'idea del business no adesso a parte gli scherzi avevo questa idea che mi frullava in testa da un po' durante il covid avevo ho avuto un po' di tempo perché comunque erano tutti a casa e quindi ho avuto tempo per mettere un po' insieme le idee di organizzare tutto creare un modello di business esatto un business plan e da lì è nato un po' tutto da partire da proprio l'idea di nome poi il brand la ricetta tutto e come si chiama gin e ditemelo voi scusate perché ti sei dimenticato certo si chiama f205 che per chi non dovesse essere di milano e quindi ha un codice fiscale che non contiene queste queste cifre queste lettere è una parte di fatto del codice fiscale che indica la provincia di milano il comune sei nato nel comune di milano molti mi chiedono ah beh il nome è facile f filippo dico sì va bene il 205 è il mio preferito è il civico esatto però sì vuol dire nato a milano dicevo che chi è nato a milano lo sa tanti altri più o meno ci arrivano però agli altri è una storia da raccontare sì esatto poi ogni volta dico ma f205 perché dico vabbè ok adesso te lo spiego la 200 millesima volta che l'ho spiegato però più o meno la gente a quanto meno a milano ci arrivano che è una roba fighissima perché ho sempre pensato quale fosse tipo il carattere distintivo della milanesità e non avevo mai pensato al codice fiscale nato a milano quelli nati davvero a milano sei quando viaggi che dici dove sei di milano e poi magari divi mercate piuttosto che divi modrone chi ha il codice fiscale f205 è nato a milano esatto e tra l'altro off topic che non c'entra niente prima chi era nato a san raffaele non aveva il codice fiscale di milano poi si vede che qualcuno si è lamentato e dice no e quindi hanno sposato una sala a parte sotto il codice catastale di milano ma il tuo gin non è nato al san raffaele invece dove è nato esattamente? beh alla madonnina perché ovviamente sei nato in centro a milano no scherzo no il gin non lo faccio proprio a milano milano perché ovviamente non ci sono distillerie o comunque che io sa entriamo un attimo nel dettaglio da cosa è composto un gin perché poi tutti lo bevano tutti si divertono tutti ne godono ma come si fa? diciamo che dovrebbe essere una bevanda alcolica sopra una certa gradazione che se non ricordo male è 38 gradi dove il gin è proprio un po' farla da padrone a livello proprio sia di sentore sia diciamo olfattivi che poi gustativi chiaro non è proprio sempre sempre così però diciamo che il gin è proprio deve esserci deve sentirci da lì poi ci sono tutta un'altra serie di botaniche che poi stanno un po' a te che creano poi il gusto di un gin diverso dall'altro perché poi ovviamente ogni gin è diverso sia a livello di appunto di naso che di bocca perché se tu ne metti io quando all'inizio facevo proprio delle prove avendone tanti anche comunque a casa avendo tanti super alcolici ne mettevo lì 7 8 10 uno di fianco all'altro e sentivo è pazzesco che tu ne senti un e dici ah cazzo poi ne senti un altro e dici no questo è totalmente diverso poi l'assaggio è diverso ancora poi arriva al 10 e ti sei dimenticato qual era il primo e devi ricominciare esatto e infatti poi il giorno dopo ti svegli con un mal di testa così perché ovviamente mischi 10 basi alcoliche diverse e come quando dici ah non devi mischiare però non è che se bevi 7 gin diversi non stai mischiando perché ovviamente poi la base diciamo di alcol che sta dietro non stai mischiando ma stai degustando degustando eh sì certo io facevo didattica ovviamente sempre per rimanere sul tecnicismo poi dopo ci spostiamo sulle cose belletarie ehm cosa vuol dire gin economico gin premium premium super mega gold gin cioè sono le botaniche che fanno la differenza raccontaci un attimo anche per creare un po' di consumo consapevole per il sociale assolutamente ma allora diciamo che per me la vera distinzione poi è tra chi fa l'alcol e chi compra l'alcol ok tendenzialmente credo adesso non voglio dire una fesseria però 9 su 10 delle varie etichette italiano mondiali poi comprano l'alcol che poi viene diciamo usato come base da produttori che poi sono terzisti e fanno prodotto a tanta gente diversa poi viceversa c'è chi anche chi si distilla l'alcol allora lì un'altra cosa però ovviamente essendo una bevanda dove l'alcol la fa la padrone l'alcol di base deve essere di qualità poi da lì c'è tutto il discorso legato sia agli ingredienti quindi alle botaniche sia poi al packaging sia poi c'è tutta anche una parte ovviamente di marketing perché poi ci arriviamo poi ci arriviamo dopo però questo ad esempio è un prodotto che è 100% biologico nonostante non lo possa scrivere perché essendo in Italia ci sono tutta una serie normative per cui per essere biologico deve essere una società biologica nessuno sa cosa vuol dire biologico non lo so neanche io ti lo sono ma nessuno lo sa però è 100% biologico quindi sia nell'alcol diciamo che sta alla base sia poi in quelle che sono le botaniche la cosa è che quello che dico anche sempre un po' sia per venderlo però anche proprio per me ci dico guarda se non è così te ne do un'altra oppure no ti compro un'altra cosa è che tu veramente te lo bevi poi chiaro non è che devi esagerare perché comunque è un prodotto alcolico diciamo non bere guidare non guidare bere non bere troppo non bere in gravidanza non bere se sei minorenne tutto questo facciamo un disclaimer però è che poi il giorno dopo tu ti svegli e sei fresco ed è una cosa che sinceramente soprattutto poi dovendolo anche io consumare in prima persona è una cosa che fa differenza e qui la qualità dell'alcol è la qualità dell'alcol che sta alla base è proprio perché alla fine è quello che fa tanto anche il prodotto in sé perché io mi sono sempre domandato sempre rimanendo sul tema del costo cioè il gin una bottiglia di gin buono supera facilmente anche i 30 euro 35 poi vai ai discount e comunque una bottiglia da 6 7 euro cioè la trovi anche abbastanza facilmente io mi chiedo ma com'è possibile che queste due cose siano entrambe commestibili catalogate come gin e non come super alcolico schifoso come tipo benzina a centottani e gin quindi è un po' come in tutti gli ambiti cioè come una maglietta se è un brand o non un brand alla fine è sempre una maglietta quindi è solo marketing dici? no solo marketing no perché poi alla fine il cotone di una maglietta particolare è fatto in un modo piuttosto che un altro è fatto in un altro c'è anche una componente chiamiamola intrinseca di prodotto certo era una provocazione no 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 certo è tanto anche marketing poi hai questo per quanto poi ovviamente tutti dei costi legati al packaging legati alla produzione ovviamente più ne fai e meno ti costa legati alle spedizioni certo poi anche lì trasportarlo ormai ha raggiunto dei costi molto alti piuttosto che il vetro cioè il vetro è una cosa fuori testo quanto costa il packaging? va bene nel senso quanto può incidere no non è che non posso dire dovrei rivedere un attimo però incide incide tanto però è vero questa cosa del costo me lo ricordo perché negli anni pre covid in cui c'era tutta questa transizione ecologica verso materie sostenibili quindi si passava dalla plastica al vetro per inquinare meno lo dici come se fosse passato ancora no è vero perché gli anni del covid no no ma di quella transizione ecologica eh no però tante aziende hanno deciso di passare dalla plastica al vetro nella produzione poi però i prezzi del vetro sono schizzati e quindi si sono ritrovate molte aziende a dover tornare per poter sopravvivere anche a livello di costi di business di introiti e di utili di nuovo alla plastica quindi non è una stupirata che la materia prima del packaging incida sul costo finale probabilmente c'è vetro e vetro perché anche il vetro non so bene come funzioni però ovviamente a seconda della qualità lo paghi in un certo modo anche per la conservazione del prodotto poi sì credo no ma incide devo dire che il vetro incide tanto e le vetrerie hanno raggiunto il problema qual era stato è che praticamente fermando le produzioni durante il covid hanno accumulato un ritardo sugli ordini mostruoso e poi da lì hanno dovuto riniziare e di fatto erano super in rush quindi non riuscivano a stare dietro le produzioni ovviamente hanno iniziato a produrre dove marginavano di più e poi c'è stato il colpo finale dell'incremento poi di tutto quello che sono le materie prime per cui la vetreria fa fuori quantità di credo elettricità, gas adesso comunque per far andare questi alti forni certo e lì sono fatto veramente a botte di un ordine con l'altro di sei mesi in sei mesi fai più 30 più 40% cioè quindi io le ho ordinate prima e ne ho lì uno stock ne avevo lì uno stock e mi ha un po' salvato perché comunque se no poi devi alzare il prezzo e poi sei fuori al mercato e dici il vetro è bello ti dicono che cambia vetro vedi però perché poi lui affronta giustamente sente sul suo progetto il peso specifico dell'inflazione eccetera maggiormente perché comunque va detto cioè Filippo ha creato il suo brand la sua linea possiamo dire in private label cioè sì sì il tuo nome e il tuo cognome uno è unico esatto questo voglio dire cioè non c'è dietro il fondo secondo me è molto interessante perché poi magari c'è qualcuno che ti ascolta che sente questa storia e pensa che tu abbia iniziato con chissà quale capitale iniziale o con comprando non so centomila bottiglie cioè in realtà rilevando un'azienda esatto tu run the business con diciamo relativamente poche risorse sì beh poi il concetto di poco dipende ovviamente per uno può essere 10 miliardi per uno meno però sì non sei partito con un milione di euro no assolutamente no però però comunque io voglio fare una cosa che fosse anche diciamo sostenibile a livello che fosse un business cioè il business se siamo noi tre ci mettiamo mettiamo x mila euro e facciamo delle bottiglie family and friends però quello non è un business e ce ne sono tanti comunque anche in Italia di etichette che fanno così ma sì dai faccio 300 bottiglie di gin perché comunque è figo faccio il mio gin e ci sta però poi nel lungo termine ovviamente a parte finite quelle 300 cosa fai? le rifai? le cambi? oppure vuoi provare a andare sulla distribuzione in un certo modo? ovviamente uno deve avere un'idea che poi cambia comunque anche in divenire però io volevo fare una cosa che fosse poi anche non dico un'azienda perché ovviamente poi un'azienda comporta i ridipendenti però un progetto di prospettiva esatto che fosse poi anche scalabile senti andiamo sul tema marketing in parte lo abbiamo già citato perché moda trend di consumo la fanno da padrona anche sul consumo di alcolici solo ed esclusivamente no adesso solo ed esclusivamente non lo so però voi pensate dunque siamo nel 2024 pensate 6-7 anni fa chi vi chiedeva chi chiedeva un gin tonic oppure 10 anni fa chi chiedeva un gin tonic? nessuno difficile forse la vodka era ma il gin fino a veramente fino a non so 15 anni fa era un prodotto da proprio da quantità cioè su che tu sui milioni di litri marginavi qualche centesimo e sostenevi un po' il brand ovviamente non questi piccoli brand che sono nati poi sono arrivati tutta una serie di diciamo etichette che poi sono le più famose blasonate che immaginate per dire Hendrix Monkey eccetera che hanno proprio creato una vera e propria moda un vero e propria moda dietro il gin e da lì sono nati tutti le etichette un po' minori però che ovviamente poi per moda diciamo bevi il gin tonica anche io bevo gin tonica ma tu che gin bevi e io questo grande te ne intendi è un consumo recente quindi quello del gin in generale io non sono uno storico ma non che non esistessero però sì ci sono i precursori Bombay ad esempio tutti quelli che denigrano Bombay cazzo ma Bombay a parte che qualità prezzo è ottimo e poi comunque c'era anni e anni fa e c'è ancora oggi e di fatto c'è comunque la sua fetta importante di mercato quindi allargando lo sguardo uscendo un po' dal gin il trend un po' di questi anni anche delle celebrities è buttarsi sul mercato degli alcolici lanciando magari prodotti già fatti dove basta aggiungere il ghiaccio piuttosto che soft drink o drink leggermente alcolici già pronti da bere quello è il latino e quindi secondo te perché cioè al di là del gin come diciamo adesso che magari è una moda che è diventato bere il gin tonic perché è un mercato più facile in cui entrare in cui è più facile trovare dei clienti ma allora verosimilmente la cosa difficile poi quando tu crei un prodotto qualsiasi prodotto esso sia è la messa a terra cioè poi è la vendita tu sfruttando la tua fatta di essere celebrity di avere già un seguito ovviamente hai un bacino di clienti prospettici molto più ampio che io che lo vendo all'inizio magari ai miei amici o ai bar o alle notte che conosco quindi lì un po' sfruttando la loro immagine e la loro proprio notorietà la fanbase certo e sfrutti quei dici ah questo è la tequila di George Clooney piuttosto che questo è il gene di quell'altro l'attore famoso mi ricordo però loro non è che sono imprenditori loro firmano una delibera sull'uomo immagine sì poi non so se hanno magari anche delle quote credo abbiano anche proprio delle quote non credo che gli convenga più che altro è tipo Fedez che ha lanciato Boehm o ah boh si non so esattamente la ragione sociale di quel prodotto non conosco il progetto quella lattina sì non lo so no ma per la Bombir per esempio quella di Bobo Vieri eh sì esatto io non so se l'ha inventata Bobo non so se Bobo ci sente magari ce lo scrive però adesso a parte gli scherzi non so se è un'idea che è venuta da lui oppure hanno detto Bobo sfruttiamo la tua immagine facciamola a Bombir esatto credo più la seconda però ripeto non lo so ma che non avrebbe comunque nessun tipo di problema penso che lo farei anch'io cioè sono famoso cioè sfrutto la mia notorietà e qualsiasi brand alla fine fa questo per pubblicità quindi però è nato credo un po' da lì senti io ho tirato fuori qualche numero prima di questa puntata si snocciola così nel caso non lo sapessi siccome ci piace essere sempre data driven in quello che raccontiamo il mercato italiano del GIN nel 2023 è valso circa 80 milioni di euro che non è una cifra spaventosamente alta questo perché quanti ne hai messi in tasca tu? no io 78 bella domanda mi è piaciuta 78 milioni ok quello che mi arriva a pensare ma non è una cifra tanto alta e poi penso e in effetti poi all'interno di un gin tonic che io pago a Milano comunque tra i 9 e i 15 euro più sui 15 euro esatto vabbè sì più range alto stiamo tranquilli la quantità di gin è un oncia all'interno della porzione del bicchiere che sono 3 CL 3 CL ok 80 milioni di euro in realtà se io considero quanto costa un gin dovrebbero essere 80 miliardi sì poi i bar e i ristoranti tendenzialmente ti menzionano il costo per bicchiere che cos'è il fatto che il bicchiere quanto costa il bicchiere vuoto quanto costa il bicchiere vuoto uscire che poi vabbè ho detto così no nel senso c'è un mark up della madonna sul gin tonic quando lo ordini al bar sì però devi pensare a tutti quei costi annessi connessi che è un bar il personale l'affitto quindi tu alla fine loro hanno un costo proprio il bicchiere vuoto cioè se fosse vuoto quel bicchiere quanto dovrebbe costare per portarlo al tavolo a voi x benissimo da qui tu devi mettere dentro quanto costa poi il prodotto quanto costa la tonica che comunque è nell'ordine di 70-80 centesimi un euro a bottiglietta quindi comunque incide e poi da lì ovviamente devono anche immarginare quindi da lì attacchi quello che è il loro margine poi è chiaro che uno dice ma come fai quindi c'è un gin tonic però certo che tu dici fai così e fai così sì però poi c'è il bicchiere in un certo modo il ghiaccio in un certo modo la tonica in un certo modo e quindi anche poi proprio l'esperienza di bere un gin tonic poi certo che se l'esperienza è ti do un bicchiere di plastica ti metti dentro i cubetti quelli che si scioglgono solo a guardarli e la tonica è in bottiglia il ghiaccio è fondamentale fondamentale il ghiaccio deve raffreddare privo di ossigeno qual è il ghiaccio quello bello quando lo vedi che è bello quando non è bianco quello trasparente che poi puoi stare lì magari quattro ore ed è ancora quadrato o rettangolare perfetto oppure quelli fatti a palla oppure in certi bar in certo tipo magari hanno lì un blocco di ghiaccio da non lo so 70 kg adesso non lo so comunque grosso così e si entra lì con lo scalpello e il martello e ti staccano il ghiaccio sì qua siamo più sul marketing sempre che sono sicuramente anche quello però alla fine è comunque la cosa che comunque è l'experience esatto anche come tu lo guarnisci quando te lo portano con la cupoletta con dentro il fumo quella è la loro contro io tutte queste la loro contro sì perché lì inizialmente il gin non lo beveva nessuno creiamo la moda di bere il gin se non ti piace cosa fai? mettici dentro qualcosa che ammazzi il gusto e beviti quello quindi il cetriolo il rosmarino ho capito otto fette di arancia e poi quando ci mette dentro non lo so che cosa e quindi alla fine tu vai a coprire il gusto e lo rendi più quasi una bibi è un alibi quella guarnizione è nato come alibi sicuramente è nato come alibi poi cioè per me è una scorza di limone deve esserci è come i ristoranti che mettono la panna nella carbonara per i turisti sì beh ma io me la metto anche a casa la panna no vabbè ma questi sono gusti però mi vinciano no no non la metto c'era qualcuno che sta ordinando subito il gin sono aumentate le ristorature c'erano dei ristoratori romani che stavano ordinando il gin milanese no con la panna metti la panna nel gin esatto senti dove vendi questo gin perché non lo vendi al supermercato no non ancora non ancora ma sì non credo che dove lo troviamo esatto ma io principalmente sono adesso sono in nell'enoteca mi auto devo dire che sono abbastanza coperto cioè in tante nelle più rinomate sicuramente facciamo un paio di nomi possiamo dirgli nomi ma adesso vorrei che poi non ne cito altri però se hai un elenco poi lo mettiamo tutto così siamo democratici lo mettiamo tutto però le più rinomate ci sono ok e poi anche comunque in tanti bar o ristoranti la cosa che tutti i barman io inizialmente voglio fare un prodotto più quasi da regalistica cioè un prodotto che tu vedi in enoteca e lo vedi dici ah cazzo è bella la bottiglia la compro certo poi ovviamente se il prodotto non è buono la compri una volta non la compri più ma soprattutto i barman che comunque fanno quello come si dice ma no teme stè l'assaggiano adesso rimaniamo in tema l'assaggiano e ti dicono sì buono ma ne ho qua altri 128 forse il tuo tienitelo e quindi era lì poi avevamo unito un prodotto che fosse secondo me all'inizio poi secondo chi l'ha assaggiato buono e soprattutto bevibile e che tu continui a bere perché tu alla fine di questo continui a berlo perché è anche molto beverino un po' ruffiano per certi aspetti mi piace mi piace questi aggettivi è ruffiano anche a me piace questo star il mondo dell'aria esatto questo è un po' il mondo del vino che piace a tutti come awarding bellissimo senti quanto conta il bartender perché io vado in una gintoneria che non è una gintoneria cioè vado in un posto qualsiasi dove fanno magari hanno una selezione di gin e gli chiedo di consigliarmi sì certo a quel punto è il bartender che sta scegliendo è una moda che si è un po' persa cioè io ho visto il mercato del gin negli ultimi e poi ovviamente i brand più blasonati e le multinazionali ovviamente magari però stanno sentendo sono sicuro anche loro questo sono sicuro nel senso perché lo so però questo momento prima andava sei qui per questo perché sai cose che gli altri non sa esatto che nessuno sa che nessuno sa no a parte questo prima andava tanto di modo ma che gin hai che gin mi consigli cosa mi fa bene oggi perché ovviamente era una cosa che si stava anche tanto sviluppando per cui ogni volta al bar aveva il gin nuovo da proporti ah guarda ho preso questo gin nuovo prova questo prova questo poi lì sta sempre sia alla diciamo onestà del barman a non rifilarti o quello che deve finire o quello su cui margine più o quello del suo amico eh perché poi però fa parte comunque del gioco e oppure tu dici senti io so che tu sei un mio cliente affezionato vieni sempre qua bevi secco ah allora bevi questo piuttosto che ti piace agrumato bevi quest'altro certo e quindi da lì uno prima si faceva tanto più consigliare ovviamente poi uno magari dopo poco si è fatto consigliare otto volte diciotto dice vabbè a me piace questo dammi questo e quindi avendoli anche magari provati nel tempo perché comunque è una moda che è avanti che sta finendo credo purtroppo eh però anche lì io ho cercato di fare un prodotto che a uno che piace il gin continua a berlo i vari gin senza però è al cioccolato al tartufo alla fragola al tartufo alla ragosta alle formiche una volta che ce n'hai detto una bottiglia bella però se la moda passa e va su altro vedi tequila mezcal che è il trend un po' ultimo esatto quello più recente ma chi è che continua bene no no è chiaro è chiaro ma in funzione di questo e tu stai pensando magari anche a una line extension uso un termine magari ancora prematuro farlo però no ho un'altra idea che mi frulla da un po' che sto cercando di mettere in piedi di un altro distillato in realtà anzi non è un distillato però vabbè è il solito discorso ovviamente poi hai il problema un po' della messa a terra quindi dici si aspetta fammi capire un attimo come avendo già fatto questa cosa quindi sapendo un po' meglio come funziona tu puoi fare il prodotto più buono incredibile di questo mondo se poi non hai chi te lo vende o chi te lo compra chi te lo compra però prima di trovare chi te lo compra trovi anche chi te lo vende e quindi è un po' quello però sì sicuramente ci sono altre mode il discorso dei modi è provare a anticiparle è chiaro ma senti posso fare un'ultima domanda se a me tu parli di numeri ma a me affascina poi la parte più romantica del prodotto lo storytelling come viene raccontato come nasce l'idea era visto che questo è un gin nato da Milano per Milano che ha la milanesità dentro perché gli hai messo da un milanese per tutto il mondo però F205 nato a Milano parte dal cuore di Milano in che cosa è milanese il tuo gin quali sono i caratteri distintivi della milanesità del tuo gin bravo bellissima domanda vabbè parti dal nome cioè F205 nato a Milano è questo poi diciamo sono più lo trovi di più nel packaging nell'idea di brand quindi trovi adesso non so se si vede là però il verde è quello che ricorda le famose vedovelle cioè le fontane tipiche di Milano i draghi verdi i draghi verdi poi trovi dietro vedi la piantina di Milano con l'aree verdi della città ah eh sì quelle sono tutti i parchi di diciamo Milano comune mettiamo così non fino alla provincia però con tutte le aree verdi della città quindi esaltare un po' questi un po' dei parchi delle aree verdi e e poi niente poi ci sarà una sorpresa incredibile e poi tu hai preso un focus group di Milanesi a tutti è piaciuto e hai detto minchia allora questo è per il Siena no poi ci sarà una sorpresa incredibile che è una cosa che ho lì in cantina non in cantina nel vero senso la parola in cantiere in cantiere scusate grazie anche in cantina è bello anche in cantina in realtà però da un po' di tempo che sicuramente sarà una chicca e credo spero per questo Natale di riuscire a metterla in piedi in questo Natale nel senso come deadline no spero anch'io così avrò un regalo di Natale da poter io pensavo così lo rinvitiamo prima di Natale tanto il clima più o meno sarà lo stesso di oggi magari farà più caldo speriamo faccia più caldo Natale ma allora che dire il tempo come sempre quando c'è una persona brava bella competente simpatica alla mano secondo me ti ringraziamo ti ringraziamo per essere stato con noi è già finito tre minuti è pazzesco grazie per la sorpresa ci sarebbe solo da assaggiarlo adesso questo gin noi adesso lo finiamo voi se volete assaggiarlo innanzitutto cercatelo su Instagram giusto così due reference ce le avete Filippo se volete contattatelo perché poi per ordini privati eventualmente gestisce lui e noi adesso andiamo a provare il gin F205 e noi ci vediamo alla prossima puntata ciao grazie grazie